La zona è la stessa, il materiale pure, però non basta a mettere la firma sull'autore o sugli autori di questo abbandono di rifiuti speciali. Siamo a Piano d'Orta, territorio, insieme a Bussi, già noto per le discariche dei veleni. Ma anche se non è dato sapere chi abbia abbandonato questi rifiuti, almeno ora possiamo immaginare chi sarà a rimuoverli. La Regione, grazie al Presidente Marsilio, grazie all'assessore Campitelli, ovviamente grazie all'attività del sindaco di Bolognano e del sottoscritto, si è riusciti a stanziare una cifra di circa 112 mila euro per la rimozione di quel materiale. Materiale accumulato nella frazione di Piano d'Orta nel comune di Bolognano dal 2019, ma gli accumuli risalgono probabilmente, vista la voluminizzabilità delle carte dal 2012 al 2014, non si sa chi è stato colui o coloro che hanno messo su quel tratto di strada quei materiali inquinanti, però è importante sapere che tra breve si riaprirà la strada Via Nelli a Bolognano e quindi ci potrà essere la circolazione delle macchine, si ridarà la vivibilità in quella zona. Questa nuova amministrazione dà subito attenzionato un cumulo di rifiuti su un'area pubblica, che non è altra che una strada chiusa per un deposito di rifiuti adiacente al famoso SIN, già noto alle cronache. A parte a caso le analisi dimostrano che è dello stesso materiale inquinante che sta nell'area principale soggetta a bonifica. A quel punto là mi sono attivato con la regione, abbiamo fatto richiesta di finanziamenti, perché come ben sapete il nostro comune è un piccolo comune e ha problemi finanziari per andare avanti, quindi non ci potevamo sobbarcare questi oneri. Siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento che hanno portato in delibera ieri per arrivare a giorni a fare una convenzione regione comune che ci permette a noi di attivarci immediatamente a fare lo sgombro di questi rifiuti, lo smaltimento, l'ipotetica caratterizzazione successiva per vedere se il suolo è inquinato e quindi ci saranno ulteriori richieste di somme.